Poiché vi sono alcuni deputati che hanno chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori a fine seduta, questi interventi potranno avere luogo in concomitanza con le operazioni di scrutinio che si svolgeranno presso la Sala dei Ministri. Sono alcuni i deputati che hanno chiesto di intervenire. Comincerei nell'ordine dal deputato Daga, che ne ha facoltà. Grazie. Presidente, colleghi deputati, dopo aver appreso che il Governo non ha accolto la richiesta formulata dal Movimento 5 Stelle di rinnovare la nomina dei vertici di Cassa Depositi e Prestiti in scadenza, rileviamo che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, legge 296 del 16 maggio 1994, gli organi amministrativi di società partecipate dallo Stato in percentuale prevalente possono essere prorogati per un massimo di 45 giorni dalla loro scadenza. Tale regime di prorogazio non pregiudicherebbe in alcun modo il buon andamento dell'amministrazione della stessa Cassa, poiché potranno essere posti in essere gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Chiediamo pertanto che il Governo dimissionario espliciti al Paese le ragioni per le quali non abbia usufruito di tale possibilità. Evidenziamo che si tratta di una scelta e non di un obbligo, quella di procedere con le nomine dei vertici. Secondo noi sarebbe stato preferibile scegliere per la prorogazio e procedere successivamente in modo trasparente e condiviso, con adeguata discussione pubblica. Ci sembra evidente che questo Governo sia dimissionario solo a tratti e forse solo dove e quando gli conviene. Noi del 5 Stelle abbiamo focalizzato l'attenzione di quest'Aule dell'opinione pubblica su questa tematica, perché è nostra ferma convinzione, anzi è nostra certezza, che la causa principale della crisi del nostro Paese risieda nella commistione e nel conflitto di interessi che vengono portati avanti grazie alla contemporanea presenza nel CDA di molte partecipate, banche e aziende private, di taluni soggetti che tessano relazioni dubbie e spesso lontane dall'interesse della collettività, come documentato in maniera approfondita dai media. A titolo esemplificativo ricordiamo il caso del fondo lussemburghese Galaxy, partecipato al 40% proprio da casse depositi e prestiti, che entrò in scena sei anni fa quando si procedette alla privatizzazione della società aeroportuale di Ampugnano e Galaxy si aggiudicò la gara evidenza pubblica. A luglio del 2010 i carabinieri sequestrarono le quote del fondo Galaxy di proprietà delle casse depositi e prestiti italiana, francese e tedesca. Secondo gli inquirenti il fondo sarebbe stato favorito dalla commissione di saggi che fu nominata dal Monte dei Paschi di Siena per effettuare la selezione. La professoressa Luisa Torchia, consigliere di Cassa depositi e prestiti dal 2007, veniva ingaggiata dalla Monte dei Paschi come consulente nell'opera di privatizzazione dell'aeroporto di Ampugnano ed è attualmente indagata per turbativa d'asta. Altra anomalia di Cassa depositi e prestiti è l'assetto delle fondazioni bancarie che la partecipano e che hanno incassato dal 10 al 12% ogni anno, godendo di azioni privilegiate, azioni che dovevano essere convertite in ordinarie al 1 gennaio 2010 e che invece lo sono state solo il primo aprile 2013 con ulteriori guadagni e facilitazioni, anche grazie a modifiche statutarie della cosiddetta governance, che consente agli azionisti di minoranza di indicare la figura del Presidente del Consiglio d'amministrazione. In questo contesto, qual è il ruolo del Parlamento che ha il dovere di tutelare gli interessi della collettività? Da una ricerca effettuata presso l'archivio della Camera, l'ultima relazione della Commissione parlamentare di vigilanza di Cassa depositi e prestiti, costituita da quattro deputati e quattro senatori eletti, risale al 4 marzo 2004 relativamente agli esercizi 98, 99 e 2000, Commissione eletta ad ogni legislatura che nulla ha più prodotto da quella data. Che fine ha fatto l'attività di vigilanza parlamentare? Queste ed altre sono le nostre perplessità sulla modalità della nomina, sull'incomprensibile fretta del rinnovo del Consiglio d'amministrazione, sull'anomalia della lista unica fatta dal Ministero dell'Economia e Finanza insieme ai soci di minoranza, cioè le fondazioni, tutte perplessità che riguardano il principale fondo pubblico di liquidità che dovrebbe avere come scopo principale proprio la tutela di oltre 220 miliardi di risparmio dei cittadini e l'uso degli stessi per finalità sociali negli stessi termini in cui Cassa depositi e prestiti viene costituita nel 1850. Presidente e colleghi deputati, rinnoviamo quindi l'invito di chiedere al Governo di modificare la sua scelta a fronte di quanto appena esposto. Grazie. La ringrazio. No, il tema, come è tutto evidente, per quanto riguarda il merito rimane agli atti della Camera. Per quanto riguarda invece il metodo e anche però alcune considerazioni di merito, la conferenza di capigruppo ultima si è occupata di questa questione da lei posta e in particolare nell'ultima capogruppo. In quella occasione è stato ricordato che la prassi è nel senso che le Camere non procedono all'esame e alla votazione di atti di indirizzo in presenza di un Governo di missionario. Fanno eccezione i casi in cui l'attività di indirizzo è strettamente collegata con l'esercizio da parte del Governo di attività significative e rilevanti fondate sull'urgenza, così è stato di recente per la reazione di aggiornamento al DEF e anche, come ricorderete, per il decreto su Roma Capitale. Poiché la mozione in esame non si collega a procedure già in atto presso entrambe le Camere, come nei casi sopracitati, al relativo esame si può procedere solo se vi è il consenso unanime dei gruppi, che nel caso di specie non si è riscontrato e i capogruppo lo sanno perché nella conferenza di capogruppo che c'è stata non si è riscontrato.